Un applauso e un incoraggiamento perché per adesso si è sobbarcato tutte le difficoltà della nascita di questa lista oltre tutte le problematiche burocratiche perché con lui andiamo sul sicuro, cioè qua non si sbaglia niente qua è un contatto continuo anche e ha avuto ragione di avere tutte queste preoccupazioni perché in alcuni comuni poi si verifichino delle cose perché quando non ci sono, la parola che ripete sempre è la competenza perché noi possiamo anche, diciamo per un fatto affettivo, per un fatto ci sono tante altre famiglie potremmo anche decidere di indirizzarlo nel nostro voto diversamente però io dico sempre, noi con l'amico, con il familiare possiamo andare a mangiare una pizza possiamo dargli dei soldi, possiamo fargli camminare con la macchina ma qua bisogna amministrare un comune e amministrare un comune significa conoscere delle regole e poi l'amministratore adesso non ha soldi e come si muove sbaglia perché se fa una gara d'appalto viene preso dai giudici, se non fa la gara non può lavorare allora giusto chi ha le competenze necessarie che capisce di legge perché anche la legge lascia le sue interpretazioni però noi, diciamo, a parte che la continuità, cioè tutti questi soldi che loro hanno creato che hanno ottenuto con i finanziamenti stanno lì, non è finito questo mandato c'è qualcosa che è rimasto appeso e questo che è rimasto, che già c'è, lo dobbiamo mettere in atto quindi qualcosa lo finiremo, l'altro attingeremo dai finanziamenti ma ci vuole una persona che li va a chiedere questi finanziamenti perché l'abbiamo perso e perché nessuno li ha chiesti allora io una preghiera vi faccio e voglio veramente che tutti quanti voi applaudiate in modo forte questo uomo che nonostante gli affanni, il lavoro, tiene lo studio, poteva anche, cioè più non sta bene non ha bisogno di fare questo, però la politica, la nostra passione ci vive in questo paese e vuole che questo paese vada avanti e da quello che ha lasciato interrotto, non per colpa sua ma per colpa degli altri grazie grazie